Quest'anno siamo molto felici di quello che siamo riusciti a realizzare, siamo riusciti a portare a Cuneo la nazionale italiana Juniores, grazie ovviamente a tutto lo staff che abbiamo. Organizziamo questa gara su ben due giorni perché abbiamo veramente tantissimi iscritti. Sono 324 ginnaste che eseguiranno due esercizi a testa, quindi sono 648 esercizi. Sarà una gara che partirà dalle 9 e mezza del mattino di sabato e terminerà alle 19 circa della domenica sera. La domenica a mezzogiorno circa si esibirà la nazionale Juniores con l'esercizio ai 5 cerchi, mentre alle 18 si esibiranno con l'esercizio ai 5 nastri. Sono ginnaste di altissimo livello che parteciperanno poi a campionati europei e mondiali.